Salve amici del Centro Medio Italiano, tempo sempre stabile sulla nostra penisola con diversi impulsi perturbati. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 1 novembre. Al mattino piogge e piovigini interesseranno soprattutto il sud Italia e localmente Lazio e Abruzzo, tempo asciutto altrove ma anche con molte nubi sparse e anche basse. Al pomeriggio cieli generalmente nuvolosi con piogge e piovigini su Liguria, versanti tirrenico centrali e regioni meridionali. Non si escludono fenomeni anche intensi specie su Campania e Sicilia. In serata e nottata le precipitazioni bagneranno i settori occidentali della nostra penisola, dal Piemonte alla Sicilia, tempo asciutto sulle altre zone ma con addensamenti anche compatti. Dando uno sguardo invece alle temperature, minime in calo al centro nord e in aumento al sud, massime invece il rialzo al nord e in diminuzione nelle regioni centro-meridionali. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.